perché non hanno chiuso lo spazio aereo sullo sperminos con un'epidemia tale dovrebbero chiudere lo spazio aereo e non dovremmo usare l'aeroporto rilassati cosa vuoi che ci succeda non hai un bel aspetto tutto ok sono stato appunto da una strada questa mattina in pista forse sono allergico allergico eh allergico già facciamo atterrare l'aeroporto sei falso laggiù è pieno di zombie e qui siamo pieni di gente sotto per gestire certe situazioni anche io grazie